Ciao Ottavio! Oh! Ma lo sapevi che Trump è amico di Burqaram? E chi lo dice questo? Lo dice il Web! È bellissimo! Non smettere mai di sognare, Sebastian, mai! E poi anche Trump insieme a Putin scateneranno la terza govola mondiale! E chi lo dice questo? Lo dice il Web! Ma è meraviglioso! Sai che ti dico, Sebastian, che noi non bisogna mai smettere di essere ottimisti e per questo intervisteremo tutti questi esperti internazionali del Web dal vivo! Ci stai? Ci sto sì! Andiamo! Dolce Quota Rosa! Fossi stata americana! Cosa avresti scelto? Clinton o Trump? Avrei scelto di sicuramente Trump! Di sicuramente Trump? Non sicuramente Trump, avrei scelto sicuramente la Clinton! Hillary, Hillary! Perché Hillary? Perché? Perché seguiamo Obama! Perché cosa ha fatto Obama? Ah, non entro nei dettagli perché non ne ho le competenze! Ma l'amministrazione di Obama mi è piaciuta e quindi proseguiamo con Obama! E quindi la Clinton poteva essere un giusto seguito! Gli americani si sono trovati di fronte a un bivio, a dare ragione o torto a chi ci ha aperto al mondo e a chi ci vuole chiudere! Invece adesso abbiamo Trump, però accettiamo tutto! Insomma c'è Trump, ma cos'è che non ti piace di Trump? Non lo conosco personalmente! Non è anch'io! La personalità non mi piace! Però vediamo, abbiamo assistito alla Brexit e assisteremo anche a Trump presidente! Chi è che chiudeva? Trump! Trump chiudeva il mondo! E invece la Clinton? La Clinton o i democratici in genere, la storia dell'America ha visto negli ultimi anni un'apertura e un'invasione anche eccessiva secondo me! Da parte di chi? Ma da parte di tutto! Multinazionali, petrolio, Iraq, Siria... E la Clinton non c'entrava niente? Non lo so se c'entrava qualcosa lei! Insomma, fosse stato americano, chi avrebbe scelto? Lui no di certo! Perché? Perché è un uomo che non lo... anche vedendolo fisicamente, per me è un gran bastardo! È un bastardo! Scusate il termine! Però io non lo considero un uomo, quella lì è un guerra fondaio! E la Clinton invece no? No, io la Clinton per me no! Clinton? Perché? Perché mi dava la sensazione di essere una persona comunque più esperta e quindi probabilmente avrebbe svolto meglio il suo lavoro! No, anzi! Al posto di lui ce la vedevo molto meglio! Per non fare le guerre! Per non fare le guerre! Ma quello non lo so io, insomma no! Comunque lui io lo odio, sinceramente! Dopo l'odio... Lo odio, perché è un uomo che mi danno è anche a vedere la televisione, il giro! Eh, ho capito, ho capito! Allora viva la Clinton! Sì, certamente! Viva la Clinton! Viva la Clinton, esatto! Cosa ha detto per... cosa è successo? Cosa ha detto per scheditarla? Cosa lì dell'FBI, quando hanno tirato fuori, a una settimana dalle elezioni hanno ritirato fuori di nuovo questi... Però l'FBI ha fatto l'indagine! Sì, però chissà perché l'ha ritirata fuori una settimana prima delle elezioni, cioè l'aveva già fatta! L'FBI, non Trump! Sì, però alla fine se uno ha soldi è tutto, non manovri tutto! Ma la Clinton non aveva soldi? Sì, ma evidentemente è stata presa alla sprovvista, non lo so, pensava magari di essere tranquilla che avendo già fatto questa cosa non si sarebbe rifatta di nuovo e invece nel momento nel quale lui è risultato un po' in perdita è risaltata fuori questa cosa qua. E insomma, Clinton o Trump? Trump! Il primo! Perché? Il primo! Secondo me Trump è sicuramente un estremista molto estremo, per alcuni tratti anche eccessivo. Che al mondo d'oggi però sicuramente ci può stare perché è un mondo di eccessi e in quanto tale con tutti gli eccessi che abbiamo sia in Italia ma non solo in Italia, ma in generale nel mondo, anche negli Stati Uniti, i mexicani che gli subentano dal confine, secondo me vanno a creare delle problematiche che abbiamo anche noi qua in Italia con altre popolazioni. Dicevo ragazzi è importante questa cosa qui ma fosse stati americani avreste scelto Clinton o Trump? Uno alla volta eh? Io guarda, ho seguito questa elezione americana come una puntata di forum il lunedì mattina proprio, quindi non saprei proprio di scegliere, solo per i giudici di forum. Sempre i giudici di forum, ma se tu fossi stato americano col coltello alla guardia... Clinton, 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 perché Clinton? Clinton, perché il marito si faceva fa p***i, questa mette il bip eh? Taglia. E il fatto che lui voglia chiudere diciamo le frontiere, detto in malo modo perché comunque l'ha detto in modo molto estremiso. Le frontiere non c'erano nel Messico prima? Beh comunque un muro c'è già se vogliamo vedere perché alla fine se guardiamo il confine Stati Uniti e Messico, negli Stati Uniti abbiamo un'autostrada accanto e di là abbiamo il deserto dove non c'è nulla. Bene o male un muro c'è già, si parla di povertà contro uno Stato. Ma il muro della povertà, quindi non c'era già niente? No, però, sicuramente c'è qualcosa, non dico che tutti i messicani siano delle persone sbagliate o in generale altre persone che vengono in Italia, però molte persone che arrivano come esempio dal Messico negli Stati Uniti o altre tipologie che arrivano in Italia vengono a creare delle problematiche e oltre a questo aumentano le tasse della tassazione sull'italiano in quanto la tassazione risale al 72% è tantissimo. Chi avresti scegliere? Dillo al popolo del web. Io ero per Michelle Obama perché mi guardano le nere. A parte Vello. No, mi sono sempre guardate. Sì, ok. Come si fa? Michelle Obama magari nelle prossime elezioni si sfiderà, si sconterà con Trump. Ma ora non guardiamo il futuro con l'occhio e con lo sguardo di un bambino che guarda il futuro per un giorno migliore. Guardiamo con il cervello Hillary ma senza cervello anche Trump per cambiare. Eh, eh, attenzione. Cambiamo. Hillary, però anche Trump perché Trump? Perché mi chiamavano di super Trump. Quindi le donne. No, no, proprio le canzoni di super Trump, dei riordini. Perché non ce le ricordi? Dai. Mark Clinton. Perché? Trump è... Ora c'è chi dice che è laureato, però era un ex pugile, poi un miliardario, eh. Mi sembra un po' una versione di Silvio, quindi eviterei. Preferivo la Clinton. Anche se... Perché è laureata. Ma è l'idea di Trump che è un po'... Cioè, un po' razzista. Non so come si sono alzati i voti alla fine così. La Clinton, quasi sicuramente. Clinton, perché? Perché? Diciamo che Trump è un... Eh... Troppo estremista per il mondo di oggi. Troppo estremista. Veramente, per un mondo troppo... Come si può dire? Politicamente corretto. Sì. Che ci piace. Sì, diciamo... Politico... Che ci piace, insomma. Eh... Noi siamo... Io e politica siamo veramente due cose a parte, però... Fondamentalmente, secondo me, Trump estremizza troppo le idee. E la Clinton no. Cioè, la Clinton... Cos'è che ti piaceva della Clinton? A mio parere, a mio... Cioè, di primo acchito, come si può dire, no? Mi sembrava, diciamo, un po' più sincera, ripeto, per il mondo che è oggi. Per il sincera? Un pochino più reale, diciamo così. Un pochino più reale. Per un mondo che non vuole smettere di sognare. Eh, vuole mettere dei parecchi limiti. Parecchi... Addio! Parecchi limiti. I paletti, tipo il femminismo... Esatto, esatto. Tipo... Quindi ti piace anche la Boldrini? La Boldrini? Eh. Posso essere sincero? Eh. Ti dico che sono andato a votare solo una volta e basta? Ah, vabbè. No, vabbè. Trump è troppo lontano dalle nostre idee di europei, sia per quanto riguarda l'immigrazione, sia per quanto riguarda la sanità, sia per quanto riguarda le condizioni in generale. Quindi per l'Italia era meglio la Clinton? Sicuramente, sicuramente anche perché la Clinton era quantomeno più aperta, facilitava di più gli scambi, era per un'economia più aperta, mentre Clinton tende a rimettere i dazi, a restringere le economie e ha un processo involutivo rispetto all'evoluzione che c'è stata fino a ora. Ma perché ti piaceva la Clinton? Perché sceglievi la Clinton? Ciao Hillary, salutiamola. Ciao Hillary. Perché? Onestamente fra le due preferivo la Clinton, anche se so che c'erano anche altre persone con idee più, come si dice, più serie, però sono state buttate fuori. Ci sono stati altri... Tipo? Io non me ne ricordo. Perché ora se ne è parlato, però i nomi ora mi chiedi troppo. Hai ragione. Però la Clinton non ha mai fatto una guerra. Ma Trump che esperienza ha di guerra, di rapporti con gli altri stati? Sì, ma la Clinton non ha mai fatto una guerra. Cosa vuol dire? In quanto segretario di Stato e vi dicendo, sotto Obama non è mai successo niente? No, ci sono stati degli interventi in certi paesi che per quanto mi riguarda ritengo tutto sommato abbastanza giusti. Per esempio in Iraq, in Iraq a un certo momento cercare di riportare la libertà, di sottrarli a regimi autoritari. E in Siria? E in Siria idem. E in Libia? In Libia non mi sembra che stia prendendo una grande posizione. In Libia... Quindi con Trump la situazione peggiorava, insomma. Beh, con Trump la situazione è che Trump se ne fregherà di più, non interverrà in questi stati qua, guarderà più ai propri interessi privati. Ma non è meglio per noi, forse? Lascio il dubbio. Resto nel dubbio anche io. Resto nel dubbio anche io.